Cantautore romano, mal di fuori del circuito del folk studio e della scuola romana, si trasferisce a Milano, e dopo le prime esibizioni nella sua città riesce ad ottenere un contratto discografico con la del disc, che però lo tiene parcheggiato senza fargli incidere alcun disco. Dopo una pausa dovuta al servizio militare, ritenta e riesce a firmare con la Polidor, con cui debutta nel 1972 con il 45 giri 20 anni di galera, suicidio, contenente due canzoni che vengono inserite nel suo primo album La stagione per morire. Caratterizzato da testi spesso pessimistici e da musiche in stile cantautore, arrangiate da detto Mariano, il disco tiene un buon successo nella programmazione radiofonica dell'epoca, ed alcuni brani vengono spesso trasmessi in programmi come per voi giovani, supersoniche d'alto gradimento, inoltre la title track La stagione per morire ottiene molte recensioni positive. Così scrive Fabrizio Cerqua su Ciao 2001. Le canzoni di Mauro Pelosi. Giovanissimo cantautore. Sono bellissime poesie, riflessioni di vita vissuta, quasi sempre amare, nelle quali coesistono paure, insicurezza, amore, parole ove la musica si fonde con il discorso e ne esalta il contenuto. L'anno successivo il brano Vent'anni di Galera. Canzone d'amore in cui il protagonista augura la donna che lo ha lasciato una condanna. Appunto, a vent'anni di carcere. Per avergli distrutto la vita. Viene ripubblicato su 45 giri con un nuovo lato B. E dire che a maggio. Canzone che era stata incisa l'anno precedente dai Gatti Rossi. Gruppo il cui cantante solista era Santino Rocchetti. Sempre nel 1973 viene pubblicato il secondo album Al Mercato degli Uomini Piccoli. Arrangiato da Pinuccio Pirazzoli. In cui testi con tematiche esistenzialiste. In cui il tema dell'amore può essere visto come ipotetica ancora di salvezza. Si accompagnano a musiche vicine alla rock progressivo. Suscitando interesse in Giappone e Corea del Sud. Dove il disco viene pubblicato. Così lo stesso Pelosi. Intervistato da Fiorella Gentile. Parla dell'album. Dopo una pausa di qualche anno. Pelosi si ripresenta al pubblico con l'album. Mauro Pelosi. Arrangiato nuovamente da Pinuccio Pirazzoli e con la collaborazione. Tra gli altri. Di Edoardo Bennato. Che suona l'armonica a bocca in l'investimento. E Ricky Belloni dei New Trolls alle chitarre. Tra le canzoni sono da ricordare Claudio e Francesco. Storia d'amore omosessuale. Ho fatto la cacca ed una lecca lecca d'oro. Pubblicato su 45 giri. Le vendite però sono deludenti. Nel 1979 pubblica il suo ultimo album. Il Signore dei Gatti. Senza grossa fortuna. Nonostante le sonorità più ariose e le liriche più elaborate. Si dedica quindi ad altre attività. Tra cui la gestione di un locale a Trastevere. Il Cielo. Insieme a Romano Rocchi. Continuando comunque a comporre. Ed avvicinandosi alla musica elettronica. Nel 2009 è stato ristampato in CD dalla Universal l'album al mercato degli uomini piccoli. E dall'inizio del 2010 il brano omonimo ha avuto largo spazio nella rubrica Coppa Rimetti del. Programma radiofonico Il ruggito del coniglio di Radio 2.